42 L.E.R.D. 3 L.E.R.D. 3 Lei ha vinto l'Oscar per un film della DC Comics, Suicide Squad? Si È appena uscito il trailer della Justice League Che ne pensa dei costumi della Justice League? Da professionista... Ma guarda, ho visto il trailer l'altro giorno perché mio figlio ha lavorato in produzione su quel film e gli ho detto, ma guarda, mi sembra di molto bellino quel film l'ho trovato carino io sono sicuro che sarà un bel successo assieme all'altro Wonder Woman perciò benvengano, benvenga, benvenga sembra interessante Quindi i costumi approvati? Ma sì, certo approvati, non ci mancherebbe vorrei vedere Meglio quello di Harley Queen o di Wonder Woman? Non c'è paragone, Harley Queen batte 10 a 1 Ops! Grazie Grazie a voi, ciao